Musica Dal 7 al 10 novembre 2012 preso il Centro Congressi di Rimini si è svolta la sedicesima edizione di Ecomondo, fiera internazionale del recupero di materie ed energia e dedicata a raccontare il mondo dello sviluppo sostenibile. In concomitanza con l'evento anche un'altra manifestazione di gran interesse, la sesta edizione di Key Energy dedicata a raccontare appunto il mondo dell'energia e della mobilità sostenibile. Si è parlato di compostaggio, biogas, cogenerazione, fotovoltaico, ma andiamo a conoscere il punto di vista degli imprenditori del settore. Il 2012 è un anno importante per Envitec perché ricorrono, come si vede anche dal nostro logo, i dieci anni di attività della nostra azienda. La nostra azienda è ormai presente in 15 paesi al mondo, in ogni nazione d'Europa, anche in Nord America e in India. Il nostro segmento di mercato è quello della produzione e realizzazione di impianti a biogas. In Italia siamo in presenza di una variazione normativa e quindi la sfida è quella di essere flessibili e rispondere alle richieste del mercato. Per far questo abbiamo lanciato la nuova gamma di prodotti, di impianti di piccola e media taglia. I nostri clienti sono essenzialmente agricoltori medio-piccoli, quindi tutti quegli allevatori che posseggono allevamenti suini o bovini o anche di polli. E anche ci rivolgiamo adesso al mondo industriale, quindi con tutta quella che è la produzione di sottoprodotti, che è una problematica per un soggetto che li produce, ma da oggi può diventare anche un'opportunità di valorizzazione. Chienergy è da anni l'evento di riferimento per il settore. Per noi essere qui è importante, ci dà visibilità e soprattutto ci mette in collegamento con quelli che possono essere dei potenziali partner nel mercato italiano ma anche internazionale, dal momento che qui la presenza internazionale è anche molto abbondante. Envite che si sta espandendo a livello internazionale. In Italia la sfida da raccogliere è quella di essere presenti ancora sul mercato, sia dal punto di vista della realizzazione degli impianti che per la manutenzione e assistenza degli impianti già realizzati.